In questi giorni di isolamento appunto tutti noi abbiamo imparato a tenerci in contatto a distanza con app e strumenti di videochiamate. Un gruppo di sviluppatori italiani ha brevettato un sistema tutto italiano. Vediamo con Caterina Proietti. Abbiamo deciso di impostare un pacchetto semplice affinché amici, colleghi potessero videochiamarsi in modo semplice. C'è chi si è messo subito a cucire mascherine e chi invece ha studiato un modo per continuare a far comunicare le persone. La rete riesce a stravolgere ogni baricentro. Non esistono luoghi ma idee e queste idee possono nascere anche in una biblioteca. Come è accaduto in questo caso a Fabriano dove quattro ragazzi hanno inventato io resto a casa.work, un software libero tutto italiano con cui realizziamo il nostro servizio. Oggi i server sono 40 distribuiti sulla rete italiana con una banda complessiva di 200 gigabit simmetrici. Obiettivo è quello di offrire una piattaforma alla nostra scuola per non dover anche in questo settore ricorrere ai big tech, ai giganti del web a cui inconsapevolmente cediamo tutte le nostre informazioni. Stiamo cedendo un aspetto cruciale che è l'algoritmo, cioè come le informazioni vengono derivate e a quale scopo queste vengono gestite. Al progetto hanno aderito il CNR e il GAR, il consorzio che fornisce la banda ultralarga che fa ricerca in Italia, 15 mila chilometri di fibra ottica su cui le nostre università fanno viaggiare le lezioni online. Io resto a casa.work è nato con 40 tecnici, sono diventati 150 persone unite per farci continuare a lavorare, a studiare e sorridere virtualmente.